Ciao a tutti, benvenuti all'ennesimo video unboxing di Brain Juice, questa volta il pacchetto più piccolo perché ho richiesto solo poche cose, comunque passiamo a vedere il contenuto. Il pacchetto è chiuso perfettamente, come sempre, dal nostro carissimo Brusa, scusate l'inaudita violenza, ma ci avrei messo circa 6 anni, se no ad aprirla, abbiamo Brain Juice pack, una deck, grip, adesivo, veramente bella la deck, deck, 2, grip, adesivo, e il nostro Brusa direi che migliora sempre di più con queste decks, notare dopo le aprirò per farvele vedere meglio. E poi ecco i miei trucks wide, con il loro adesivino, viti che gradirei non perdere, anche se sono mentalmente malata, giustamente le ho buttate tutte alla cavolo, notare il track wide, veramente veramente nice, very very nice. Con calma penso che riuscirò anche a mettere via tutto. Non c'è altro dentro il pacchetto, aprirò una deck giusto per farvi vedere l'esatto contenuto del pacchetto. Tanto comunque rimane sigillato. Abbiamo un foglietto marrone, brown. Il grip, che potete giustamente richiedermi se siete interessati, oppure potete richiedermi del rip, visto che ho anche quello. L'adesivo che vi arriverà sempre con la deck. Ed ecco la nuovissima deck Brain Juice, wow, veramente bellissima. Con la scritta Brain Juice, se volete dividere il grip. Really, really nice. Veramente delle decks molto molto belle. Belli kicks, bella sciapatura. Veramente da comprare, ragazzi. Adesso vi saluto, alla prossima. Grazie. 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 Grazie.